Vediamo cosa c'è dentro. Ah, eccoli qua! Ci sono i due braccialettini che avevo fatto fare da Marina Davanzo, che è la titolare di gioiellidilatte.it, che è un sito dove potete realizzare tutti i gioielli fatti con il vostro latte. Voi gli mandate la provetta a Marina e Marina vi realizza il gioiello, un gioiello ovviamente che potete scegliere nel sito gioiellidilatte.it. E io mi sono fatta fare nello specifico questo braccialettino con scritto mamma e soprattutto con questo cuoricino all'interno del quale c'è il mio latte. Idem per mio marito, ho fatto la scritta papà e poi sempre il mio latte nel cuoricino. Eccolo qua, mamma e papà. Io ho scelto questi braccialetti, ciongoli, anelli, orecchini, collane, tutti quelli che volete. E addirittura è possibile fare anche con i dentini del vostro bambino e le ciocche, di capire il vostro bambino e le ciocche. E allora io ringrazio Marina D'Avanzo e gioiellidilatte.it per questa collaborazione. Grazie.